Adesso siamo tutti in hype, abbiamo visto tutti il trailer di spada e scudo e non vediamo l'ora che il nuovo gioco esca ma a questo punto dell'anno secondo me c'è una domanda importantissima da porsi Pokémon sta morendo? Pokémon è un gioco morto? Perché parliamoci chiaro, bellissimo trailer, bellissimo gioco che sembra sia per uscire ma la vera domanda è, tutti gli utenti del 3DS passeranno a Switch? Tutti gli utenti di questi anni saranno contenti di questo gioco? Abbiamo visto sì le grafiche aumentate, abbiamo visto dei nuovi Pokémon che però purtroppo sembrano disegnati in maniera molto simile la loro testa ha le stesse dimensioni, la stessa forma e sembra cambiare semplicemente qualche dettaglio tra i Pokémon starter iniziali persino i top player stanno valutando se partecipare o no a determinati tornei perché a quanto pare in questo punto della stagione per come è stata gestita, per come è stata impostata o sei in corsa o non sei più in corsa e questo fa calare molto le iscrizioni di tornei e se il prossimo gioco dovesse puntare proprio sul sistema competitivo proprio come ci fanno capire con l'ingresso in quello stadio bellissimo di calcio insomma un target per i più grandi, è quello che ci avevano promesso no? Ma se i giocatori si stanno un attimino allontanando sarà in grado il nuovo Pokémon di riavvicinarli in una nuova console quindi uno scalino in più da sormontare? Riuscirà The Pokémon Company a gestire il circuito competitivo come si deve? Io voglio fare questo video, voglio lanciare questi dubbi non perché non credo in questo nuovo titolo che semplicemente potrebbe essere davvero bello anche se fino ad ora non mi ha ancora convinto del tutto quello che io voglio dire è che TPCI non si deve semplicemente basare sulle recensioni o sulle reazioni positive di questo momento quello che deve fare TPCI è cercare di proteggere il gameplay sembra essere tornato quello di una volta il sistema di cattura pure, sembrano tornate le palestre sembrano tornate un sacco di meccaniche penso anche le abilità quindi ci sarà forse probabilmente una maggiore attenzione al competitivo questo renderà possibile creare dei tornei, dei mondiali insomma ultimamente il PvP va ancora più di moda l'abbiamo visto con Fortnite, l'abbiamo visto con Apex domani esce un video a riguardo ma ecco, la vera formula per il successo per Pokémon è il competitivo però in questo momento hanno fatto allontanare un bel po' di giocatori e se questo gioco del 2019 non ha tutte le carte in regola prevede un brutto futuro per il brand Pokémon prevede un brutto futuro se TPCI continua con la gestione pessima che ha attuato fino ad oggi persino per Bolzano, il prossimo torneo, lo special event italiano siamo stati costretti ad averlo in un luogo così difficile da raggiungere come Bolzano e tantissimi top player stanno rinunciando ad andarci perché ormai Pokémon è un gioco morto quindi bisogna sì festeggiare, bisogna essere contenti per il nuovo titolo bisogna essere carichi a pallettoni per il nuovo titolo però non ci scordiamo che dall'altra parte c'è anche un circuito che va gestito e se continuano così, hai voglia di... hai voglia di far... Pokémon muore e non scordatevi la cosa più importante di tutti il nuovo gioco è una copia di Aegislash una spada e un cazzo di scudo eh